Andiamo in un mondo dove c'è dell'elettronica con un progetto che si chiama Giusu, lui è Gioele Valenti, ciao Gioele. Ciao, ciao Red, grazie dell'invito. Allora Gioele, dunque, di dove sei intanto tu? Diamo un… di dove sei tu? Ma io sono di Palermo, siciliano. Ah, e come hai fatto tu ad interagire con personaggi diciamo dell'elettronica anche internazionale, mi sembra che tu abbia interagito, no? Sì, allora, dunque, io molto in sintesi inizio in Italia con un progetto di tipo diverso, di tipo elettroacustico con influenze lisergiche, 60s più o meno, e vengo prodotto dalla prima etichetta dei Verdena, la gesta ai records, ho, diciamo, la possibilità di poter girare un po' con loro, faccio l'esperienza live, e poi a un certo punto invece mi sposto in Inghilterra con un progetto di tipo diverso, approdo alla Rocket Recordings di Londra con un progetto di psichedelia, e scrivo un disco col fondatore di questa band che si chiama Le Lamas, e questa cosa appunto ci apre le porte della nuova psichedelia europea, abbiamo la possibilità di fare tour di supporto a band grosse come GOT, o altre, diciamo, realtà di, del, insomma, anglofone, e finita questa esperienza, a fondo giu giu, che è un progetto di psichedelia pan-mediterranea con influenze dark wave, ecco, diciamo, più o meno la definirei così, ed entro in scuderia presso un'altra etichetta, si chiama Fuzz Club Records, che è un'etichetta, diciamo, di tutto rispetto, che annovera in roster band come Sonic Jesus, o New Candice, Underground Youth, e questa cosa qui appunto è il progetto di cui stiamo parlando, che è Juju, ecco il quale giro da qualche anno, prima, sicuramente prima dell'avvento infopandemico giravo parecchio, ora le cose sono un po' più così, un po' più ferme, diciamo, questo in breve, diciamo, sì. T'ho lasciato parlare perché hai detto un sacco di cose, ti avrei voluto fermare prima, però volevo ascoltare il discorso finito, fermiamoci un attimo, Inghilterra, quando vai in Inghilterra? Allora, io Inghilterra approdo 2014 con un disco appunto a nome Le Lamas, che è un disco ovviamente condiviso con il fondatore di questo progetto, si chiama Nicola Giunta, ed entriamo appunto in questa Rocket Recordings, che è un'etichetta di punta del movimento neopsichiatra. Fermati, ma tu vai a vivere a Londra? No, io vado, in realtà ho rapporti con l'etichetta, vivo in Italia e giro quando mi organizzano dei tour, questo diciamo. Quindi tu continui a vivere dove? A Palermo? Sì, io continuo a vivere a Palermo, sì, sono stato in Inghilterra per lunghi periodi di tempo, ma casa mia è la Sicilia. C'è Michele Marzilla che dice felice di esserti amico. Michele è un grande amico. Ma scusa, tu fai una musica che è un po' elettronica, che è un controsenso per un palermitano, che vive nel sole, nel mare, cioè perché? Perché, allora io mi sono dato una spiegazione, non so se diciamo questa possa essere esaustiva tu cur, però sostanzialmente io credo che la Sicilia, così come la madre patria, diciamo la Grecia antica, abbiano questa, nascondano diciamo dietro la solarità un'anima piuttosto drammatica. E sicuramente laddove c'è la luce il contraltare è sempre l'ombra. Poi, diciamo molto più banalmente, semplificando, io ho sempre ascoltato musica dark sostanzialmente a cavallo tra gli anni fine 70 e metà 80 e questa tipologia di musica sostanzialmente ha formato la mia sensibilità estetica. Ho sempre cantato in inglese, la cosa che mi viene più semplice. Così come qualsiasi altro teenager del globo, più o meno. Senti, però, devo dire che la tua musica elettronica contrasta con quel manifesto che vedo dietro di te, perché lì c'è scritto Juju e mi sembra una maschera antica quella. Sì, allora, in realtà Juju contiene diciamo all'interno della sua cifra una forma di musica afrocentrica e palmediterranea, infatti almeno i primi dischi, l'ultimo uscito è appunto il quarto disco del progetto Juju, il quarto vinile. Sostanzialmente, almeno all'inizio, l'immaginario che muoveva la musica di Juju era proprio un immaginario piuttosto africanista con della poliritmia dentro e man mano, diciamo, durante il percorso artistico parte di questo nucleo fondante è stato abbandonato a beneficio appunto invece di orizzonti più, come dici tu, più elettronici, anche se devo dire che l'elettronica nei dischi di Juju è sempre molto Juju o Juju in francese, è sempre molto misurata, non è mai centrale, è sempre semmai un orpello, un barocchismo, ecco. Sì, poi nel tuo presso Elisa anche c'è uno strano anziano orientale, non si capisce bene cos'è, che cos'è questa? Allora sì, l'ultimo disco che si chiama La Ketabe, che sono anche orgoglioso di poter annunciare che è andato in sold out dopo 5-6 giorni proprio dall'uscita, almeno presso l'etichetta. Ma ce l'hai lì da far vedere? Sì, questo qui. Ah, ma c'hai il vinile! Sì, sì, no, no, ma Juju va avanti solo con vinili e devo dire, anzi mi piacerebbe spedirtelo se mi dai l'occasione. No, no, assolutamente sì, guarda, perché io amo questa, che musica è? È quella poi che ascoltiamo, cioè il brano Walk the Line è dentro questo album? Sì, il brano è proprio il video del singolo di questo album e questa è una forma di psichedelia che potrebbe essere, diciamo, potremmo definire un sincretismo, diciamo, tra la dark wave e la psichedelia appunto lisergica, fine 70, ecco, diciamo, l'incrocio tra Ken, Bauhaus, piuttosto che Van Der Graaf Generator, piuttosto che Joy Division, è insomma un po' un tributo a tutta la musica che mi ha informato, diciamo, i miei ascolti da sempre. Ho letto nella tua biografia anche il nome Martin Rev, che era quello dei Suicide. Sì, sì, sicuramente, no, no, ma probabilmente tu ti riferisci invece ai Mercury Rev, i Mercury Rev sono questa grande band, sì, Mercury Rev sono questa grande band statunitense che ho avuto l'onore di poter accompagnare in tour e con la quale ho fatto anche una collaborazione però in un altro progetto, era appunto il progetto che ti dicevo prima, si chiama Herself, più pop, diciamo, più sul versante acustico, pop, lisergico, diciamo, tra Nick Drave, che posso dirti, Sparklers, per citare, diciamo, i nomi, diciamo, più, così, più forti. Gioele, sai una roba, io sono stupito dalla creatività che avete voi siciliani e dalla varietà di musica che fate, sono davvero stupito. Beh, insomma, la Sicilia è un coacervo, chiaramente, di culture, insomma, ce l'abbiamo anche un po' nel DNA, proprio la miscellanea, siamo stati molto dominati e siamo tornati ad essere dominati, e quindi, insomma, più o meno, anche come forma di reazione, sublimazione, abbiamo questa tendenza alla miscellanea e al travaricare, appunto, le categorie, i generi. Non so perché, ma Piero Timi chiede, chiedigli se è laureato in lettere o filosofia. No, non sono laureato, scrivo da sempre, ho scritto su giornali di musica italiani, anche di un certo rilievo, come Rockerilla, ho sempre avuto una passione per la letteratura, ho scritto dei libri di scarsissima rilevancia, però sono un appassionato lettore. Io non so come sia venuto al gentile, diciamo, telespettatore questa idea, ma, insomma, ecco, mi piace l'italiano, non sono disposto ad abbandonarlo. Ok, ma, Gioele, tu vivi di che cosa? Perché non credo di musica. Io fino, prima della pandemia, ho vissuto di musica, perché comunque le etichette che ti... Cioè, io non sono uno di primissimo pelo, come avrai capito, ho girato anche moltissimo, fatto anche da supporter, da turnista, e laddove, ovviamente, il periodo storico lo ha permesso, abbiamo avuto... Io ho una band di tre elementi, gli altri due sono Simone Spanelli e Vincenzo Schillaci, con i quali portiamo avanti Juju, e abbiamo girato tutta l'Europa negli ultimi anni, abbiamo suonato in locali anche piuttosto rinomati, e quindi, insomma, io ho avuto la possibilità, grazie al cielo, di poter vivere di musica. Non sono mai stato uno ricco, però ho dimostrato a me stesso che facendo le cose con il cuore, con l'onestà, senza rincorrere le mode del momento, è una cosa che si può fare. Ho avuto anche delle fortune, cioè ho incontrato anche delle persone che hanno creduto in me, ti parlavo dei Mercury Reb, che sono questa band gigantesca che ho avuto modo appunto di incontrare, con la quale ho collaborato, e che mi ha sicuramente dato una mano in termini di visibilità, però, cioè, si può, il sogno, come dici tu, insomma, questo dream è assolutamente perseguibile. Allora, dal fatto che tu mi dici che vivi di musica, significa che come musicista, come uno che fa musica, usi anche tutte le possibilità che ti vengono offerte per i video di musica, credo che tu sia iscritto al Nuovo IMAI a questo punto. Sì, sì, io sono iscritto, ma devo dire da poco, l'ho conosciuto anche casualmente, perché un mio amico mi ha detto che esisteva questa società di intermediazione, fatta da artisti e da addetti ai lavori, e quindi con una sensibilità sicuramente maggiore a quella della media, delle società omologhe, e io ho avuto appunto questa soffiata, e devo dire che in questo momento storico il Nuovo IMAI mi ha recuperato un po' di royalties, che le etichette, insomma, tendono sempre, diciamo così, un po' ad occultare. Devo dire che, insomma, personalmente mi sono trovato sempre abbastanza bene con le etichette, però avere qualcuno che per ora, diciamo, la tua causa non è male. Ok, veniamo a questo tuo brano, che è tratto, rifammi vedere quella copertina, mi piace da matti la copertina del tuo disco. Allora, lui è... Ma chi è lui? Sì, allora, lui è ovviamente la caricatura di un Agori o di un Kapalika, sarebbe un sacerdote shivaista, diciamo portatore di una filosofia shivaista tantrica, e sostanzialmente mi sembrava un personaggio molto adatto a rappresentare il mood di questo disco, che è fatto di chiaroscuri, una ricerca interiore che è fatta anche di abisso, oltre che di luce, ed è un disco che è nato durante il primo ferocissimo e ingiustificato, ingiustificabile lockdown, e il disco risente moltissimo di queste atmosfere glaciali della New Wave degli anni Ottanta, ci puoi trovare in questo disco Bauhaus, appunto Joy Division, Dead Can Dance, insomma tutta quella musica che in qualche misura ha rappresentato anche una forma di ribellismo, di destrutturazione, diciamo, dei codici tradizionali della musica, almeno per quel tempo, e insomma più o meno questo è il concetto. Ma Walk the Line era un famoso brano di Johnny Cash? Johnny Cash, esattamente, ma non c'entra assolutamente nulla. Walk the Line vuol dire vai oltre alla barriera, vai oltre… Esattamente, sì, esattamente, esattamente, è il concetto che sta dietro al brano, più o meno, anche se è sempre molto difficile semplificare e comunque tracciare un perimetro concettuale preciso, soprattutto nel rock and roll. Mi ricordo che David Thomas diceva sempre che il rock and roll in realtà non è tanto senso e significato, è piuttosto ritmo e suggestione. E in realtà sì, c'è un anelito piuttosto gioioso in questo brano rispetto agli altri del disco, ad oltrepassare i limiti imposti dagli altri, ma anche i nostri personali limiti autoimpostici. Allora, rifai vedere la copertina perché Federica Rotta dice è un sudu, eccola qua, è un sudu colui che ha rinunciato a tutto e vive di offerte in giro per l'India. Benissimo, è vive di offerte che raccoglie in questo teschio. Infatti, capalica significa anche portatore di teschio, erano questi personaggi stranissimi, molto ai margini della cultura ortodossa. Ed erano quasi dei punk antelitteram. Trovo che fossero dei personaggi straordinari. Erano i portatori, insegnavano la via della mano sinistra. Ho sbagliato il nome, è un sadu, mi hanno corretto, non sudu. Allora, io saluto Gioele. Grazie mille. Se un giorno capiti nel nord verso Bologna, di lunedì mi avvisi, ok? Ma assolutamente, volevo ringraziarti e se mi permetti 20 secondi precisi, volevo dire che ti sono grato anche perché sei tra i pochi miei eroi, io ti seguo da sempre e tu hai partecipato moltissimo anche della mia formazione e soprattutto sei uno dei pochi eroi che non mi ha deluso e che ha tenuto botta, quindi grazie. Ci siamo capiti su dove ho tenuto botta, vero? Ci siamo capiti. Ok. Ma presto tutti interpreteremo il walk the line, cioè andremo, oltrepasseremo le barriere che ci stanno mettendo, ok? Ci siamo capiti. Ci siamo capiti. Questo è Giù Giù, walk the line. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti